Questa è la storia di Paolino e di Paoletto. Stanno in una ditta di spedizioni, stanno sul furgone sempre insieme, fanno le consegne. Paolino e Paoletto, se li vedi, sono del tutto identici. Hanno tutti e due la stessa età. Tutti e due sono alti più o meno un metro e ottanta. Paolino e Paoletto sono del tutto identici. Tutti e due ti fanno calcio. Tutti e due se ne stanno a casa per primavera a fare le grigliate. Hanno una moglie, hanno dei bambini. Paolino e Paoletto sono veramente identici. Però a guardare per bene, no, non è così. Ci sono delle differenze. Per esempio, l'italiano. Paolino parla un ottimo italiano, ha fatto le scuole serali. Mentre Paoletto, Paoletto no. Paoletto parla soltanto dialetto. Non lo capisci quando parla. Paoletto ha smesso molto presto di andare a scuola. Paoletto non ci voleva andare a scuola e infatti si vede. Infatti si vede perché scrive il verbo avere senza l'h. E poi quando scrive un amico, scrive un apostrofo amico. Insomma, quando debbono mandare le mail ai clienti, le scrive sempre Paolino perché Paoletto, l'italiano, proprio non è cosa sua. Però Paolino e Paoletto per altri aspetti sembrano del tutto identici. Anzi, non è vero. Alcune differenze ci sono. Per esempio le tasse. Paolino le tasse le paga tutte. Fino all'ultimo centesimo. Paoletto no. E se ne vanta. Dice, lo Stato italiano da me le tasse non le avrà. E infatti si fa pagare al nero. Sempre, immancabilmente al nero. E con i contanti che ha messo da parte si è comprato la motocicletta. Per il resto, Paolino e Paoletto sembrano del tutto identici. Anzi, no. A dire il vero, no. Delle differenze ci sono. Per esempio c'è il fatto che Paolino è del tutto incensurato. Mentre Paoletto, Paoletto no. Paoletto un tempo alzava il gomito e quindi una volta tirò un pugno a un tizio che cadde per terra, batté la testa contro il marciapiede, lo portarono in ospedale, ci schiacciò quattro mesi e Paoletto è stato condannato. E anche quell'altra volta è stato condannato. Quella volta per truffa, quella volta per frode. Si è fatto anche vari giorni di galera. Ma per il resto, Paolino e Paoletto sono del tutto identici. Potresti confonderli? Anzi, no. Perché c'è anche un altro aspetto fondamentale. Che Paolino, per entrare nella ditta di spedizioni, ha fatto un corso, un corso della Regione. Gli hanno rilasciato un certificato. Certificato di idoneità professionale. Paoletto no. Paoletto il certificato non ce l'ha, Paoletto se ne vanta. Paoletto dice, io il certificato non ce l'ho, io l'idoneità non la voglio, sai perché? Perché così davanti allo Stato io sono nulla tenente, nulla facente e in questo modo mi metto in tasca i sussidi. Ma per il resto, Paolino e Paoletto sono del tutto identici. Non trovi proprio la differenza, anzi non è vero, la differenza c'è. La differenza è per esempio il fatto che Paoletto, in effetti, si chiama Paoletto davvero. Mentre Paolino, tutti lo chiamano Paolino, ma in realtà non si chiama Paolino. Di nome si chiama Ahmed. E su questo c'è un'altra differenza fondamentale. A dirla proprio tutta, la differenza fra i due sta nel fatto che Paoletto, Paoletto che l'italiano non lo parla. Paoletto, Paoletto che si è fatto giorni di galera. Paoletto che le tasse non le paga e se ne vanta. Paoletto che risulta nulla tenente e nulla facente, che non vuole l'idoneità professionale, è a tutti gli effetti un cittadino italiano. Lo Stato italiano dice tu sei cittadino italiano. Mentre Paolino, anzi Ahmed detto Paolino, con tutto che paga le tasse fino all'ultimo centesimo, con tutto che l'italiano lo sa perfettamente, con tutto che ha un certificato di idoneità professionale, con tutto che è incensurato, non può essere un cittadino italiano. Benvenuti in Italia. Il paese fondato sul paradosso, basta non c'è altro, fine della storia.